Puntuali alle 9, muniti di guanti, sacchi giganti e mascherine, un centinaio di volontari domenica si sono dedicati alla pulizia del verde che circonda Forte Tron in via Colombara a Marghera. L'iniziativa, ne temo dei Forte Tron, era stata lanciata nei giorni scorsi da Buongiorno Marghera, l'associazione che ha coinvolto numerose realtà sportive e di volontariato della città. Ci siamo riusciti, siamo felicissimi, abbiamo recuperato una marea di sacchetti, ringrazio tutti i cittadini che sono intervenuti oggi, erano tanti, sono state almeno 100 persone. Che dire, adesso ci aspettiamo una risposta dall'amministrazione perché Forte Tron ritorni ai cittadini. I volontari, anche a bordo di Kayak, hanno raccolto bottiglie e rifiuti abbandonati di vario genere, riempiendo numerose decine di sacchi consegnati poi agli operatori di Veritas. Sul posto anche l'assessore alla coesione sociale Venturini, che ha ringraziato i cittadini per l'impegno e vari delegati della Municipalità di Marghera.